Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video Oggi siamo qui ragazzi per festeggiare i 100 iscritti Grazie a tutti ragazzi, volevo se lo ringraziare Innanzitutto volevo ringraziare il mio migliore amico che mi ha fatto i complimenti che si è arrivato a 100 iscritti Lo saluto, si chiama Nico Ribetz andate a sicurare anche lui, 46 iscritti facciamolo arrivare a 50 iscritti Nico Ribetz si chiama, andate su youtube e scrivete Nico Ribetz Innanzitutto oggi, grazie a tutti, innanzitutto grazie Vi volevo far vedere un disegno che ho fatto io E poi vi dico una cosa Eccolo qua ragazzi Lo speciale Aspettate eh, che escono fuori anche gli altri disegni che facevo da piccolo Lo speciale, 100 iscritti Grazie a tutti i ragazzi Grazie, 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 grazie Allora, se vedete la mano, quella mi ha aiutato un po' mia madre Scusate Ehm, e vi volevo solo ringraziare Ehm, scrivete, allora Ehm, scrivete quattro altri commenti da un a 100 Da un a 10, quanto è bello Spero che sia bello Innanzitutto Vi volevo dire anche che farò in questi altri video Innanzitutto Ehm, credo che riporterò Ehm, scusate Pro Stars Non ci sto portando da tanto tempo ragazzi Perché lagga Quello Ci gioco ovviamente Ehm, sono arrivato a 4.000 coppe Ehm Ci gioco ovviamente 4.000 coppe Ehm, credo che lo riporto Però, su quello di mia madre Non lo porto Cioè, non lo porto perché Il telefono di mia madre Ha sempre la memoria piena Perché devo farlo per forza Con il telefono di mia madre Perché se no Non mi Ehm Mi lagga Cioè Quando faccio video sul mio telefono Ho visto che c'ha tipo 3 anni 2 anni e mezzo Mi sembra 3 anni Ehm Visto che è troppo vecchio Ehm Mi lagga Ehm E quello nuovo Di mia madre Non gli laggo ovviamente E poi C'è un'applicazione più 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 Come posso dire Ehm Bella Più funzionante Cioè Ad Screen Recorder Spero che questo Ehm Disegno Vi Vi è piaciuto Ehm E vi ricordo Iscrivervi al canale Se ancora non l'aveste fatto E attivare la campanella Per non perdere Nessun altro mio video Passare anche al secondo canale Ehm Spero che vi piaccia Ve lo rifaccio vedere Mi escono sempre questi qua Mi tolgo Che è meglio Guardate Guardate Inquadriamo bene Ok ragazzi Grazie a tutti Io vi volevo Solo ringraziare Di Di essere Di Ehm Avermi Aiutato A Arrivare Fino a questo punto Questo è merito Solo Posta Grazie A tutti Ragazzi Grazie 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 Il prossimo obiettivo Sarà Ovviamente 200 Iscritti Un abbraccio Ragazzi Anche se è virtuale Anche se alcuni Non li conosco Perché Mica sono tutti I miei amici Alcuni Sono miei amici Tipo Mi fratello Raga Pensa che sono I miei amici Tutti 100 iscritti Vabbè Ragazzi Questo speciale 100 Iscritti Vi sia Piaciuto Aspettate Ragazzi Scusate E vi parlo Ancora Un po' Di video Aspettate Vi porterò Cash Royale Poi Riporterò Prova a non ridere Riporterò Fortnite Non credo Proprio Ah ragazzi Vi volevo dire Questa cosa Allora Io Fortnite Non ci sto giocando Da un mese Circa Più di un mese Quasi Perché Praticamente Ho dovuto Ricreare Tutti Le account Sulla Playstation Praticamente Io Sto giocando Una partita Tranquillamente Tipo Io Sono Forte Ragazzi Faccio Una partita Tipo Quando Ci stanno 80 Player Dopo 80 Player Mi dice Si è Surriscaldata La Playstation Dopo Ne manco 10 Minuti Che ci sto Giocando Almeno 5 Minuti Ragazzi Di questo Problema Voi sapete Se siete Molto Bravi A sistemare Queste Cosi Ditelo Qua sotto I commenti E mandatemi Tipo Un tutorial Per come fare O scrivetemelo Ragazzi Se questo Speciale 100 Iscritti Vi sia Piaciuto E noi Ci becchiamo Sempre Domani Dopo Caricherò Anche Un video Dove Gioco A calcio A mio fratello Grazie a tutti Vi volevo ringraziare Un abbraccio Virtuale Ciao a tutti Ragazzi Mi voglio Troppo Bene Grazie Per avermi Aiutato A Venire Fino a questo Punto Facciamo Arrivare A 150 Iscritti Io Amico Ciao a tutti Ragazzi